Si comincia a delineare il quadro politico dei candidati sindaco alle prossime elezioni comunali a Teramo. Cresce il numero delle candidature dopo quella ufficializzata ieri dall'avvocato nonché ex presidente del Teramo Basket in Serie A, Carlo Antonetti, fortemente voluta da un ampio movimento che si va ad aggiungere a quella del sindaco uscente Gian Guido D'Alberto e Maria Cristina Marroni, mentre si è ancora in attesa di conoscere la scelta da parte del centrodestra che dovrebbe arrivare a seguito dell'incontro che si svolgerà a Roma. I pronostici danno in vantaggio l'assessore regionale della Lega ed ex sindaco di Campi di lungo corso Pietro Quaresimale, ma la partita rimarrà aperta fino all'ultimo. Su questo quadro non ancora delineato è intervenuta la presidente regionale del Partito Democratico, Manola Di Pasquale. Intanto nel centrodestra se andiamo a parlare solo di nomi ma non di programmi, questo penso che sia il primo punto da evidenziare. Poi ovviamente loro faranno la scelta per individuare quello che per loro è la persona migliore da contrapporre al sindaco uscente Gian Guido D'Alberto, che credo però abbia in questi anni fatto molto bene, avviato anche una programmazione di lungo respiro, oltre che risolvere le problematiche diciamo immediate della città e questo secondo me è un punto di forza anche nella progettualità politica che presenterà nella sua nuova candidatura per il secondo mandato. Cosa pensa della candidatura di Carlo Antonetti? Beh, avrei voluto che Carlo Antonetti fosse stato il mio candidato sindaco circa 15 anni fa, io ero segretario del partito quando proponemmo a lui candidato sindaco, ritengo che sia una persona sicuramente stimabile e di grande respiro eccetera, ma credo che oggi la sua candidatura non abbia la possibilità di crescere perché ancora in realtà non capiamo quale sia il progetto della città.